Nel match valido per la quindicesima giornata d'andata del geronè del campionato di serie D, Fezzanese e Jolly Montemurlo si sono incontrate sul terreno del Miro Luper di Sazana in una gara convulsa, nervosa, anche sul piano degli interventi e dei falli di gioco, in cui le due compagini chiudono il conto sullo 0-0, incassando perciò un punto per parte senza smuovere granché la classifica. I verdi dal canto loro hanno confezionato molte più occasioni da gol e per questo il pareggio non può che andare stretto. In un primo tempo, che ha offerto poco o nulla sul piano del gioco, la Fezzanese deve rinunciare a Frateschi che al quarto d'ora di gioco si infortuna dovendo uscire. A suo posto faie balla. Al sedicesimo prima sortita in attacco per gli uomini diplicanti con il rientrante Baudi che va al cross servendo Veratti, il numero 9 è però anticipato dalla difesa. Al trentaquattresimo è Grasselli a provare la botta dalla distanza, il tiro prende una parabola insidiosa e non manca di molto la traversa. Al trentottesimo si fa vedere il jolly Montemurlo con un tiro pericoloso di Lumbombo. Otranto Godano non si fa sorprendere. Alla ripresa del gioco Fezzanese arrembante già in avvio. Grasselli dalla destra crossa verso Baudi che appoggia su Veratti. Conclusione dal limite e parata di Delbino. Al cinquantaduesimo è Pondaco ad aprire da sinistra verso Baudi che calcia al volo. Delbino devia con il pugno. Al sessantaduesimo dopo uno scontro con un avversario si fa male Gialdini per il jolly Montemurlo. L'infortunio lo costringe ad uscire dal campo. Al suo posto entra a Omornia. Al sessantottesimo ancora Verdi in avanti. Azione 3 contro 2 che si conclude con un fallo Zuccragno da parte della difesa avversaria. L'arbitro però ammonisce l'attaccante per simulazione. Al settantunesimo Baudi imbecca perfettamente Veratti in area. Il numero 9 raccoglie il pallone calciando in porta. Ancora un intervento provvidenziale di Delbino. Lo stesso Delbino all'ottantaquattresimo esce in anticipo su Cupini e subito dopo fa fermare il gioco per un infortunio sospetto tra le proteste dei Verdi che stavano riprendendo il gioco. Al novantaduesimo De Martino raccoglie una rispinta e calcia dal limite. Ancora miracolo di Delbino. Infine al novantaquattresimo contropiede della Fezzanese. Il pallone arriva a Cupini sulla destra che viene steso da un avversario. L'arbitro non fischia la punizione e manda le squadre negli spogliatoi. Per i Verdi uno 0-0 che lascia più di un rimpianto.